Il sostegno della Polonia per la guerra in Ucraina sta riconciliando i due paesi sulla storia di una delle tragedie più sanguinose della seconda guerra mondiale. Il presidente polacco Andrzej Duda e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky si sono incontrati nella città ucraina di Lusk per commemorare le vittime del massacro dei polacchi in Volinia e Galizia orientale, territori che prima del conflitto mondiale appartenevano alla Polonia e che furono teatro della pulizia etnica operata dai tedeschi e dai nazionalisti ucraini con il sostegno di una parte della popolazione locale. Fin dal dopoguerra Kiev si è sempre rifiutata di essere chiamata in causa come parte attiva della tragedia contestando anche l'ipotesi di genocidio. Duda e Zelensky hanno partecipato a una funzione religiosa celebrata dai capi delle maggiori chiese ortodosse e cattoliche. Il gabinetto di Zelensky ha sottolineato l'importanza del momento senza troppi riferimenti alle responsabilità per Varsavia un momento storico.